La Regione Sardegna è dalla parte della scuola e dalla parte degli studenti. Le richieste che in questi giorni portano avanti le ragazze e i ragazzi di tutta Italia sono quelle cui la Sardegna sta dando risposte sempre più robuste. Per noi l'istruzione è il principale acceleratore del futuro, lo dicevamo a inizio legislatura e lo riaffermiamo oggi con sempre maggior forza. E la sicurezza è un elemento essenziale del discorso complessivo. Queste le parole del Presidente della Regione Francesco Pigliaro a proposito delle proteste portate avanti dagli studenti su fronte alla sicurezza a scuola. Noi ci abbiamo pensato fin da subito con i scuola politica di cui andiamo orgogliosi, ci crediamo con tale convinzione, ci siamo impegnati talmente tanto in termini di energie e risorse, al punto che nessuna regione italiana è arrivata a pensare, costruire e portare avanti un'azione così complessa, impegnativa e capillare sulla propria edilizia scolastica, affiancandola ad un percorso didattico mirato. Quando siamo arrivati al governo della Sardegna nel 2014, i crolli di tetti nelle scuole, disagi e pericoli erano all'ordine del giorno. E i dati sulla dispersione scolastica erano spaventosi, l'abbandono superava il 23%. Non abbiamo perso tempo, siamo intervenuti immediatamente, lavorando con grande impegno per dare ai nostri figli scuole sicure. Sui scuola, ricorda il Presidente, abbiamo investito oltre 300 milioni per la realizzazione di 25 scuole del nuovo millennio, per la manutenzione messa in sicurezza di oltre 900 istituti, frequentati da circa 160.000 studenti sardi, e per il rinnovo degli arredi e dell'attrezzatura in 450 scuole. E proprio in queste settimane abbiamo concluso un percorso di programmazione, annuncia in conclusione Francesco Piglieru, comunicando al Ministero un complesso di interventi per un investimento di circa 53 milioni, da destinare alla realizzazione di altre 10 nuove scuole e 60 interventi mirati alla messa in sicurezza e all'acquisizione delle certificazioni.